Suonano quasi come uno sberleffo rivolto a chi dovrebbe risolvere il problema Emera. I volti di Santa Rosalia e Sant'Agata sono giganti nei piloni del viadotto ceduto sulla A19. Le hanno fatto di notte dei brothers al momento anonimi, aiutandosi con scale e corde probabilmente. La patrona di Catania guarda Palermo il volto di Santa Rosalia rivolto verso il capoluogo Etneo. E poi c'è anche un simpatico topo disegnato su un altro pilone, con le braccia tese come a tenere il ponte, sempre più poggiato sull'altra carreggiata. Una protesta, una beffa al settantasesimo giorno di Sicilia divisa.